La bellezza dei canti tradizionali di Natale. I canti natalizi, alle orecchie di chi sa accoglierne lo spirito, fanno rivivere la gioia dell'evento accaduto nella stalla di Betlemme, di Pasqualina Nives Nierre. Il cattolicesimo è una religione unica nel mondo. Essa afferma il primato dello spirito sul corpo, ma non disconosce la dignità della materia, come fanno invece molte religioni orientali. È l'unica religione che giunge addirittura a consacrare la materia e quindi ad elevarla ad una dignità inconcepibile perfino per il mondo pagano. Il corpo è considerato un segno e diventa un'espressione, un simbolo dello spirito, qualcosa che per sua natura lega il mondo ideale con il mondo materiale. D'altronde lo stesso termine simbolo deriva dal verbo greco che significa legare. Non è un caso che il cattolicesimo sia la religione dell'incarnazione. Con la rivelazione il segno è necessario per la salvezza. Dio ha voluto che giungessimo a lui tramite il corpo e il sangue di Cristo, non unicamente tramite una speculazione logica, cheppure ha una necessità propedeutica. Per questo motivo tante tradizioni natalizie, di cui oggi non si comprende bene lo spirito, celano in realtà una sapienza maggiore di tante teologie contemporanee che cercano di comprendere in maniera intellettualistica e non intelligente il mistero. È il segno, è il rito, è la tradizione ciò che mantiene vivo il mistero e permette davvero all'uomo di immergersi in esso, di coglierlo con tutto il proprio essere, anche con la mente, senza avere però la pretesa agnostica di esaurirlo. D'altronde l'atto più grande di Gesù Cristo non fu il predicare, cheppure fu necessario in quanto Gesù è maestro, ma il donarsi in un vero e proprio atto d'amore sacrificale che gli vuole perpetuare nella Santa Messa. Negare il segno significa negare la propria dimensione carnale e così anche la propria condizione di creatura con i suoi limiti. Gli stessi limiti che se accettati spalancano l'orizzonte del divino. Non c'è maggior slancio mistico che sentirsi piccoli di fronte a Dio. Anche dei segni così semplici come i canti natalizi possono diventare, alle orecchie di chi sa coglierne lo spirito che si cela in essi, dei veri e propri echi del vagito che nella stalla di Betlemme ha rinnovato il mondo. Tra i numerosi articoli dello scrittore inglese Gilbert Kate Chesterton ce n'è uno proprio sui canti di Natale che vale la pena leggere e di cui noi vi offriamo una riduzione. È proprio nei vecchi canti tradizionali di Natale che si ritrova non solo ciò che rende il Natale poetico, rassicurante e grandioso, ma innanzi e soprattutto ciò che lo rende emozionante. L'aspetto emozionante del Natale risiede in un paradosso antico e comunemente accettato, che si possano ritrovare il nocciolo e la potenza dell'intero universo in cose apparentemente di poco conto, che gli astri possano muoversi lungo la loro traiettoria proprio come una ruota alla rimessa abbandonata di un'osteria. È straordinario quanto questa percezione del paradosso della mangiatoia fu completamente smarrita da teologi brillanti e ingegnosi e conservata invece nei canti di Natale. Perlomeno questi ultimi mai dimenticano il cuore dell'intera faccenda che bisogna raccontare, che c'è stato un momento, cioè, in cui l'assoluto ha retto l'universo da una stalla per animali. Una moda miope e volgare porta a disprezzare i canti tradizionali di Natale e a scoraggiarne l'esecuzione. Le stesse persone che chiacchierano allegramente in mezzo a tutti i rumori infernali della metropolitana o che sopportano lo sferragliare di migliaia di veicoli su una strada sassosa dicono di detestare il suono dei canti di Natale. Far finta che qualcosa ti piaccia forse è peccato, ma far finta che qualcosa non ti piaccia si avvicina molto a un peccato contro lo Spirito Santo. È ancora lecito tuttavia sperare che qualcuno in questo periodo senta quei canti. Essi rappresentano gli ultimi ecchi di quel vagito che ha rinnovato il mondo. In queste parole c'è una verità straordinaria che oggi più che mai è necessario ricordare. La più grande teologia vive nel cuore delle tradizioni, nel cuore di quella pietà scristiana che le nostre nonne non hanno mai perso e che è l'unica cosa capace di dare all'uomo moderno il palpito del vivere, ossia un'accettazione serena del mistero nel tempo, senza perdersi e aggrovigliarsi nei meandri che la modernità con le sue ansie e le sue paure offre all'uomo come unica soluzione del proprio esistere. Lo stupore che si cela in un rito, in una tradizione, in un canto è davvero un incantevole eco della bellezza a cui tutti noi aneliamo.